Sì, c'era una la vostro birroia, faceva finta che era mio casco con tanto sacchetto una ragazza faceva finta di più no, mi ha piaciata mentre non si è bevuta niente questi scenari, i scenari cioè tutte queste cose non le hanno sento sono un po' comunque ho sentito ieri no, no no, non lo so ho flow ho flow no eh, c'è sembra una volta o, no, no, dai, dai Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, la mano normale è quello che sta succedendo. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì.